Il parterre della serata si arricchisce, siamo in compagnia, ci ha raggiunto la dottoressa Anita Lomastro che lo ricordiamo è un volto noto ormai di Liberi.tv ma è soprattutto partner di The Excellence e esclusivista per l'Italia della distribuzione di questo meraviglioso Magazine. Alla dottoressa Lomastro chiediamo intanto un commento sulla grande partecipazione di illustri e personalità a questi personali auguri natalizi di The Excellence. Beh innanzitutto diciamo che il Natale ci permette di essere tutti più vicini e abbiamo avuto la fortuna questa sera di avere oltre che un volto noto un volto giovane che rappresenta ovviamente il campo istituzionale italiano nel settore dell'energia che diciamo che è il nostro primo patrimonio. Dunque io ringrazio e faccio gli auguri a Marco Arcelli. Grazie, si unisce a tutti gli auguri, agli auguri di tutti noi e agli auguri di Liberi.tv